buonasera benvenuti trovati con opiti fantastici anzi una grande richiesta fantastico opi che me lo prevento peccate abitante e un attimo caprolegato e scusate però non ero io l'ospite è un altro ospite e vediamo un po chi sarà e io non lo so voglio fare un giochetto di prestigio e vediamo scusa scusa costanza veramente gott momento posto anche il cappello perché mi sono fatto la doccia e il shampoo veramente fantastico veramente mi sono incantato veramente adesso faccio scomparire scomparire queste cioccolatine queste cioccolatine queste cioccolatine veramente lo faccio scomparire guardate lo metto su mano e poi dopo guardate 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 veramente eccezionale scomparso cioccolatine e non lo voi direte ve lo metto in bocca ma tu se lo sei mangiato veramente ma cosa dici ma cosa dici ma non me lo so mangiato eh non me lo so mangiato veramente scomparso avete gioco di prestigio prestigio veramente eccezionale veramente fantastico buon saluto bene un ultimo hoppite perché oggi sono brevi gli hoppite non ce n'è tanti allegria eh allora allora avete visto eh il gioco di prestigio che ha fatto è scomparso il cioccolatino e allora voi comprerete dei cioccolatini e golosoni e allegria eh bene allora ho visto è un vento in io cucù cucù con vista non sto e ci vediamo le prossime tèo